Salve a tutti amici, vediamo come sconfiggere in modo facile e veloce il maggiore dei tre fratelli Inox su Zelda Tears of the Kingdom. Si tratta di usare l'ultramano, di agganciare uno di questi barili esplosivi e di allontanarli ovviamente, facendolo cadere vicino al boss. Quindi ne prendiamo un altro, già col primo lo svegliamo ovviamente, lontano, alto, lasciamo l'ultramano e così ripetiamo, sempre stessa tecnica. Teniamoci il più lontani possibili dai barili per evitare di farci coinvolgere dall'esplosione e ce ne sono abbastanza per procedere con questa tecnica senza bisogno di toccarlo con le nostre armi. Ecco qua, vedete? Io ho già tolto un bel po' di energia, ora vado a prendere questi qua su, uno di questi. Poi quando si avvicina ad alcuni di questi barili ancora meglio perché coinvolgiamo il boss in un'esplosione più grande. Quindi ancora, teniamolo lontano, alto, giù ed ecco qua, io ho già tolto più di metà dell'energia, continuiamo. Ecco, si sta avvicinando al resto dei barili quindi adesso vado per distruggere in un colpo solo. C'è quest'altro, aspettiamo che si avvicini, boom. No, non l'ho preso bene, ok. Comunque niente, continuiamo così. Gli manca poco, ecco qua ce ne sono molti altri, vediamo di coinvolgerlo in questa esplosione grande. Sì, stavolta ce la faccio, eccolo lì. E lo abbiamo battuto, quindi come potete vedere è molto semplice, basta sfruttare ciò che l'ambiente ci dà. Un saluto. Grazie. Grazie.